Buongiorno a tutti, io sono Win e siamo qui per un nuovo scout sul server giapponese perché almeno sul server giapponese sono riuscita a stare e restiamo un po' attiva per prendere le gemme di ossaria per fare almeno uno scout per il compiliano di Honoka allora, che dire facciamo più o meno al pelo visto che il compiliano è proprio oggi e sta per finire il giorno in Giappone e dopo anche magari un biglietto verde vediamo come va questo se va bene o se va male questo faccio anche il biglietto verde della disperazione se no lo tengo un servo per il prossimo scout quindi speriamo in bene celebre riflesso sta mettendo un monte a caricare posso sperare in bene o devo temere che c'è ok, un essere semplice, basta ho l'idea di che sazia tanto per cambiare forse quindi tipo tanta tanta carne da macello per abilità dopo lo scriverò qua e facciamo anche un biglietto random tanto sarà una R sì vabbè buona e almeno compare in un plato sporadica per augurarci una giornata e vabbè tanti saluti ciao ok e sorpresa e sorpresa stavolta siamo anche qui con il secondario giapponese che ho sul cielo e quindi anche qui abbiamo le 30 gemme e sì praticamente questo accanto lo uso una volta ogni morte di un papa ha detto proviamo anche con questo e non ho praticamente quindi non ho UR qualche tipo 3SR in croce e cioè 3SR in croce basta quasi niente insomma però in compenso a tutti e due cioè meglio ho due SSR o due SSR idolizzate di laio e ne andiamo anche qua ok un SSR l'ho chiamata a vederla così penso che forse sia una delle prime perché consiglio il grafico ssr del set tennis stamina ma SSR va benissimo questo account che uso il grafico questo è una perfect lock ok anche qui c'è un biglietto un po' da usare così a caso R di Rhin ok mi ha dato un altro è vero perché questa account inizialmente l'avevo pensato per tipo solo acqua ma poi cares e per cui non avevo ancora fatto forse uno scandale quindi mi ha dato un altro biglietto quindi sono due biglietti e un'altra R ciao a tutti ciao a tutti grazie a tutti